novembre notoriamente il mese più piovoso e per questo temibile perché spesso può dar luogo alluvione ma purtroppo desideriamo la pioggia dobbiamo correre anche questo rischio ma novembre anche il mese in cui sono più frequenti le trombe d'aria o tornado sulle coste delle regioni meridionali soprattutto pensate nel 2018 venne fuori ben 40 casi in novembre quindi anche quest'anno questo rischio c'è ovviamente dove le coste più probabili possono tornare o arrivare le trombe d'aria quelle e quelle coste ove le cui acque sono più caldi in questo momento delle norme e quali sono queste acque la campagna quelli intorno alla sicilia quelle della bassa calabria ionica